Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels, io sono Paolo e oggi parliamo di Gremlins Inc. Che cos'è Gremlins Inc? Allora, Gremlins Inc è un gioco estremamente interessante per certi versi e per certi altri con dei difetti enormi. Allora, perché è interessante Gremlins Inc? Fondamentalmente perché è un altro tentativo, in questo periodo ne abbiamo visto qualcuno, stanno crescendo lentamente a disposizione su PC questo tipo di giochi, di gioco da tavolo trasportato su PC. In realtà non trasportato, nel senso che è una controparte fisica che potete acquistare nel negozio di giochi, ma nato e cresciuto solamente per PC. Perché è interessante? Perché fino a questo momento le meccaniche dei giochi da tavolo sono state relegate all'esigenza di incontrarsi fisicamente, di avere degli amici disponibili una sera a venire a casa vostra ad una certa ora concordata e giocare con voi per un tot di tempo. Trasportare questo tipo di giochi su PC vi permette di usufruirne ovviamente, in qualunque momento del giorno o della notte, di usufruirne con persone che vivono in qualunque luogo del mondo e quindi di poter in qualche modo pianificare le vostre giocate in maniera più agevole, cosa molto gradita per un pubblico di giocatori che sta comunque invecchiando e che magari trova sempre più difficile trovarsi fisicamente attorno ad un tavolo. Voi i complici, le mogli, i figli, il lavoro, gli impegni, eccetera, eccetera. Come funziona Gremlin Sync? Fondamentalmente in Gremlin Sync noi saremo dei Gremlins, e qui questo mi sembra abbastanza palese, e cercheremo di accumulare risorse e punti per vincere la partita. La partita la vince classicamente chi fa più punti. Potremmo spostarci su una plancia, avremo varie possibilità di movimento, le strade sulla plancia sono più o meno tutte a senso unico, più o meno, e noi potremo comunque prendere dei bivi e scegliere quale percorso intraprendere, quindi se intraprendere percorsi più o meno rischiosi per guadagnare più o meno risorse. Avremo inoltre sulla destra sei carte nella nostra mano, le sei carte in questione ci permetteranno di fare vari effetti, alcune dei quali ci permetteranno di guadagnare punti, ed è uno dei modi principali per guadagnare punti, altre ci permetteranno invece di fare vari effetti descritti sulla carta, o di usare le carte grazie a delle proprietà che hanno le carte, al di fuori di quello che c'è scritto sulle stesse. Sono legate ad un codice colore, eccetera, eccetera. Questa è più o meno quello che si deve fare in Gremlin Sync. Ora partiamo dalle cose positive di Gremlin Sync. Una cosa positiva sicuramente è che i giochi di questo tipo, creati su PC o trasportati su PC, ci permettono di utilizzare regole estremamente complesse di causa-effetto senza dovercele per forza ricordare, e agevolando le nostre scelte. Tanto per fare un esempio, nel momento in cui noi ci muoveremo sulla plancia, ci saranno varie opzioni a nostra disposizione. Ci trovassimo attorno ad un tavolo, noi dovremmo guardare dove si trova la nostra pedina, e cercare di capire quali sono tutte le possibilità che ci vengono concesse dai bivi, che spesso sono parecchie. Posso magari muovermi in 4-5 posti diversi, ognuno dei quali ha i suoi effetti. Un sistema informatico ci permette di vedere queste cose in maniera automatica, perché nel momento in cui ci muoveremo, le caselle in cui ci possiamo muovere vengono evidenziate, permettendoci così di osservare direttamente le scelte che abbiamo, e non dover cercare di capire quali sono le scelte a nostra disposizione. Un'altra cosa che ci permette in maniera molto comoda una versione computer di un gioco di società, o come in questo caso, un gioco di società sviluppato solo su computer, è avere sempre il log, che nel video che vedete alla mia sinistra, che per me è la sinistra, sì, anche per voi è la mia sinistra, e che tutte le mosse che vengono fatte sulla plancia vengono tracciate in basso, in basso c'è una sequenza di piccole caselline che ci permette di ricostruire che cosa ha appena fatto il giocatore, prima di noi, o che cosa abbiamo appena fatto noi. Le cose negative di questo gioco. Allora, sicuramente è un gioco piuttosto complesso, nel senso che le opzioni a nostra disposizione sono tante, i modi per fare punti sono tanti, le strade da percorrere sono parecchie, il tabellone è diviso in sezioni, diciamo, delle quali la sezione destra ci permette di raccogliere risorse, la sezione sinistra ci permette di concretizzare queste risorse in punti, quindi dovremmo gestire i nostri spostamenti in maniera piuttosto strategica per raccogliere delle risorse, e andarle poi a spendere nella parte sinistra. Tutto questo è molto complicato, e devo dire che il gioco non fa un gran lavoro nel rendere tutto più fruibile, cioè le informazioni che ci vengono presottate sono un sacco, nel momento in cui ci viene aperta la prima partita, le icone sono già tutte lì, creano un sacco di confusione, e stesso dicasi per le carte, è molto difficile avere, bisogna giocare parecchie partite per avere un'idea di quali siano le carte disponibili, quali siano carte buone, quali siano carte cattive. Nella prima partita che faremo non avremo idea se una carta che ci siamo trovati in mano sia effettivamente molto efficace o meno efficace delle carte di quel tipo che potrebbero capitarci nelle mani successive. Quindi non sappiamo se una carta va tenuta per il suo effetto o spesa per i suoi punti, diciamo. Questa è la prima cosa negativa che mi viene in mente. Una cosa positiva sicuramente è che il gioco è ben ambientato, le illustrazioni sono molto piacevoli, tutto quello che vediamo a schermo è estremamente gradevole da vedere, anche se, come dicevo prima, un po' confuso. Interessante il fatto che ci sia una componente, che tutta l'ambientazione sia a tema politico-economico, quindi tutte le carte che utilizzeremo, quasi tutte le carte che utilizzeremo e tutti gli eventi che andremo a triggerare sono legati ad un'ambientazione socio-politica economica di questa città nella quale è ambientato il gioco. Una cosa negativa è che le partite a Gremlin Sync durano forse troppo per un gioco che del fatto di poterlo giocare in un momento non convenzionale, essendo su un PC, fa un suo punto di forza. Se io posso iniziare una partita a Gremlin Sync alle 11 di sera, perché i bambini sono a letto, la moglie sta guardandosi con un telefilm e io ci voglio di giocare a qualcosa, non voglio che la mia partita duri 3 ore, 2 ore, ho bisogno di qualcosa di più veloce. Un'altra cosa negativa di Gremlin Sync è che non si ha spesso l'idea di quanto possa una... di come stia andando la partita, cioè di chi sia realmente in testa e chi sia realmente in coda. Mi è capitato di giocare una partita a Gremlin Sync in cui ho creduto di essere in coda tutta la partita, ho chiuso con due buone carte e ho ribaltato completamente la graduatoria tra me e gli altri giocatori. Quindi tante volte avere delle carte in mano molto positive ti permette di fare un sacco di punti all'improvviso e quindi giocare la tua partita in ultima posizione e essere un po' ignorato dagli altri giocatori che si, tra virgolette, infastidiranno tra di loro ignorando l'ultimo giocatore e poi con un paio di giocate da un sacco di punti saltare in testa. Gremlin Sync è in questo momento a 10 euro su Steam e devo dire che questa sicuramente è una cosa molto positiva perché lo sviluppo dei giochi di società, giochi da tavolo su PC ci permette di avere accesso a questo tipo di meccanica, a questo tipo di giochi in maniera molto molto economica rispetto a un gioco del genere che sicuramente comprato in una versione fisica costerebbe almeno 40 se non 60 euro scusate è stato sviluppato da Alexei Bokulev e Sergei Kimlov e Charlie Oscar Lima Tango Interactive Entertainment interessante il fatto che il fatto che sia possibile svilupparli in maniera digitale ci permette di avere accesso anche alle idee ai lavori di sviluppatori tra virgolette non appartenenti a delle nazioni che normalmente sviluppano giochi quindi da a loro, da a tutto il mondo la possibilità di sviluppare prodotti e presentarli ad un grande pubblico questo fondamentalmente era Grambling Sync devo dire che non so se consigliarvelo o meno diciamo che deve piacervi secondo me per apprezzare Grambling Sync deve piacervi molto il genere di gioco e non deve spaventarvi la complessità e la complessità soprattutto dell'interfaccia la sua cripticità più che la complessità del gioco che in realtà non è così complesso le meccaniche sono piuttosto semplici prese singolarmente la complessità sta nell'elevata quantità di opzioni che abbiamo sia a livello di strategia personale sia a livello di tattica verso gli altri giocatori quindi chi infastidire come e quanto per esempio va bene questo era Grambling Sync come sempre come in tutti i video vi lascio il link in descrizione se vi piace quello che facciamo su Anacestary Pixels vi invito a condividere i nostri video a iscrivervi sulla pagina Facebook o sulla pagina G Plus e a mettere un bel mi piace sotto il video grazie anche per oggi ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao